Ragazzi vi porto nell'ordine di Cristina che quando mi ha contattato mi ha detto ho bisogno di due box, una per me e una per i miei tre figli, tutti maschi. Quindi venite con me e componiamo la prima box, la prima è proprio quella di Cristina, poi seguirà un secondo video dove ti farò vedere quella dei tre maschi. Iniziamo mettendo un po' di profumo nella nostra scatola perché è proprio quella di Cristina e andiamo a prendere subito il set di evidenziatori polipetto, 5 colorazioni bellissime con questi simpatici polipetti appunto. Prendiamo anche gli evidenziatori unicorno nelle tonalità pastello, è una vera romanticona ragazzi. E proseguiamo alla volta di un set di squadrette super flessibili ragazzi, abbiamo scelto questi con il fucsia, andiamo avanti e vediamo un po' cosa scegliere ancora. Non sapeva proprio decidere quale righello furbo acquistare, quindi ha preso sia quello con le tabelline, sia i due dedicati alla geometria con le formule dell'aria e del perimetro e anche quello dedicato alle unità di misura così ha tutto il completo. Non sarà mai impreparata, bravissima. Un post-it trasparente nella colorazione del fucsia e una penna luminosa glitter unicorno, fantastica, fa un effetto speciale, sembra una bacchetta magica. Un case trasparente unicorno, bello grande che potrà mettere anche tranquillamente i suoi trucchi e una borsa termica, sempre tema unicorno. All'interno c'è la sua tracolletta e due comode cerniera, una esterna e una all'interno. Una borraccia termica tema matematica, si sente forte ora che ha i righelli e una borraccia arcobaleno, fantastica, abbiamo scelto questa nelle tonalità del pastel. La box è terminata ma ti aspetto nel secondo video per completare il suo ordine. Un bacio! Ti aspetto nei commenti però eh! Ti aspetto nei commenti però eh!